Cuore di topo di James Patterson Capitolo primo Il mondo è sempre enorme quando sei piccolo. La mia storia inizia il giorno in cui ho perso tutta la mia famiglia. Sto correndo più velocemente che posso dietro ai miei fratelli e alle mie sorelle maggiori, lungo il corridoio, oltre il secchio con lo spazzolone, verso la porta aperta. Stiamo scappando da un luogo infame e raccapricciante e al 100% orribile, che è anche l'unica casa che io e la mia famiglia abbiamo mai conosciuto. I miei fratelli e le mie sorelle ci stanno guidando verso la libertà. Tutti e 96. Io sono il più giovane e manco a dirlo il più piccolo. Non devo fare altro che stare dietro a loro, come ho sempre fatto. Dovunque vadano loro, io li seguo. So che si tratterà di un posto più sicuro e migliore. Deve esserlo. Così dice Abe e anche Winnie. Ci infiliamo in quella minuscola fessura tra la porta e la parete ed entriamo nella terra dei giganti. Fuori. Dove nessuno di noi è mai stato prima. Ho già detto quanto sono terrorizzato? Oh no! Una montagna nera e bitorzoluta che puzza di verdura marcia ci blocca la strada. Costringe la mia famiglia a dividersi, a sparpagliarsi in ogni direzione. «Ragazzi!» grido. «Aspettatemi!» Non possono aspettare. È troppo pericoloso. Cerco di prendere una scorciatoia per raggiungerli. Corro sopra la montagna. Pessima idea. La mia zampa posteriore destra perfora qualcosa di sottile come un guscio d'uovo e sprofonda del tutto in un buco melmoso e non riesco a tirarla fuori. Questa non è una montagna. È un grosso sacco di plastica nero pieno di immondizie. Ragazzi! I miei fratelli e le mie sorelle sono completamente scomparsi e io sono intrappolato. Perciò faccio quello che faccio sempre. Vado nel panico. «Aiuto!» grido. «Questa fuga è stata un'idea di mio fratello Benji. Ma Benji se n'è andato. E anche Abe e Winnie e...» Sento i colpi sordi di scarpe umane alle mie spalle. Sta arrivando qualcuno. Mi tiro la zampa. Non si muove. La tiro di nuovo. Al terzo strattone riesco finalmente a liberarla. Devo correre. Trovare la mia famiglia perché senza di loro non ho la più pallida idea di dove dovrei andare o cosa dovrei fare. Sul lato opposto della montagna di rifiuti giro attorno a un sacchetto spiegazzato con la scritta D-O-R-T-O-S e raggiungo una sporgenza. «Winnie! Abe!» Mi guardo attorno. Non vedo nessuno. Poi controllo in basso. C'è un precipizio di quasi un metro fino a una grata d'acciaio che copre un tunnel buio. Chiudo forte gli occhi e salto. Atterro in un'acqua fredda, limacciosa. odio bagnarmi le dita. «Ragazzi!» chiamo ad alta voce. «Qualcun altro è sceso per il canale di scolo? C'è nessuno? Ehi là!» Nessuna risposta. Nemmeno uno squittio. Solo la mia voce che mi rimbomba dietro. Ho sentito degli umani dire «Ma sei un uomo o sei un topo?» quando uno di loro ha paura e l'altro ha invece bisogno che sia coraggioso. Beh, io sono assolutamente un topo. Mi chiamo Isaia. Non sono mai stato più spaventato in tutta la mia vita, il che è tutto dire, perché tutta la mia vita è stata una grande fiera della paura. Ma così è peggio. Non so dove sono e ho perso la mia famiglia o loro hanno perso me. Comunque sia, per la prima volta in vita mia sono completamente solo. Cuore di topo Capitolo secondo Dio ci ha dato le ghiande ma non ce le ha aperte. Sento una sirena. Lampi di luce rossa bucano l'oscurità. insieme agli strilli di una sirena. Qualcuno ha appena azionato l'allarme. Vorrei nascondermi per sempre nell'angolo più buio di questa fogna sgocciolante ma qualcosa dentro di me dice continua a correre Isaia non farti prendere vai a trovare la tua famiglia sbrigati muoviti o sei perduto. Scappo via inoltrandomi nell'oscurità sono velocissimo merito di tutti quei mesi trascorsi sulla ruota muovendo la coda per mantenere l'equilibrio svolto dietro una curva cieca i lampi rossi stroboscopici spariscono e con loro qualsiasi altra luce uso i baffi proprio come mi ha insegnato mamma prima di scomparire dal luogo orribile per orientarmi lungo le pareti umide corro a rotta di collo nel nulla di un tunnel nero e le mie dita si bagnano sempre di più all'improvviso sopra di me vedo un fascio di luce è un altro tombino sgattaio lo su per la parete viscida e sbuco in un vicolo ingombro di rifiuti alcuni dall'aria decisamente appetitosa ma quando sei un topo in fuga e stai cercando di raggiungere il resto della tua famiglia non hai proprio tempo per fermarti per uno spuntino per quanto allettante scivolo su una buccia di banana marrone sbando di lato verso un mucchio di scatole e mi infilo in un'apertura più stretta di una pagina di un libro quando sguscio fuori dal lato opposto sul sedere sento delle voci voci umane trovali idiota ringhia un tizio trovali tutti ma non è colpa mia piagnucola l'altro ho lasciato aperta quella stupida porta solo per un secondo non aspetto di sentire altro mi arrampico sulla parete di un edificio salgo su utilizzando le minuscole fessure di cui gli umani ignorano perfino l'esistenza quando arrivo in cima vedo un grosso cavo della luce nera che ondeggia nel vento mi lancio in volo dalla parete e atterro saltellando con un boing servendomi della coda per tenermi in equilibrio come fosse la pertica di un equilibrista attraverso di corsa il cavo ballonzolante poco dopo mi ritrovo in un altro vicolo o forse è una discarica di rifiuti tossici l'aria puzza talmente forte da farmi tremare i baffi ruggine sostanze chimiche imputridite odore di uova marce ho le orecchie perforate dalla sirena dell'allarme mi fa scendere un brivido lungo la spina dorsale fino alla punta della coda ho bisogno che i miei fratelli e le mie sorelle mi rincuorino che mi diano coraggio ma continuo a non vedere nessuno provo comunque a gridare rivolto in basso verso la strada ragazzi ehi Winnie qualcuno dove siete cuore di topo capitolo 3 per quanto forte corra un topo non riuscirà mai a fuggire alla sua coda mi sento come se stessi correndo da ore anche se probabilmente sono solo cinque minuti adesso gli umani sono molto lontani alle mie spalle ma parlano a voce molto alta e le mie orecchie sono estremamente sensibili siamo a 95 dice uno fa pure 96 risponde l'altro preso oh no hanno catturato la mia intera famiglia e abe e winnie e benji ottimo lavoro grida uno degli umani chi manca uno di quei maledetti blu il più piccolo è blu 97 guarda c'è qualcosa che si muove dietro quel barile non vai da nessuna parte piccoletto blu scattano entrambi io faccio altrintanto dal rumore delle loro voci che si affievolisce si direbbe che stiamo andando in direzioni opposte siete mai stati separati dalla vostra famiglia in qualche strano posto che cosa avete fatto vi siete seduti scoppiando a piangere a dirotto è quello che pensavo di fare anch'io ma la cosa terribile è che io so perfettamente dove sono in un posto in cui non posso assolutamente tornare so che gli altri cercheranno di scappare di nuovo mio fratello maggiore benji non è un tipo che si dà per vinto non si arrenderà mai e scogiterà un nuovo piano presto ma fino ad allora cosa faccio vivo fuori completamente da solo prima d'ora non ho mai dovuto cercarmi da mangiare o un posto dove dormire da dove comincio all'improvviso le nuvole si aprono il sole di mezzogiorno mi scalda il pelo e mi asciuga le zampe decido di continuare a muovermi devo trovare un posto in cui nascondermi fino a quando benji e il resto della mia famiglia cercheranno di nuovo di fuggire dal luogo orribile quando lo faranno mi troveranno ad aspettarli ora io so cosa starete pensando aspetta un attimo misaia tu sei un topo si suppone che i topi siano creature e notturne praticamente cieche tutto quel sole di mezzogiorno deve farti un male tremendo agli occhi beh tanto per cominciare se non vi dispiace noi topi siamo notturni e crepuscolari il che naturalmente significa che siamo attivi di notte ma anche dopo il tramonto è all'alba come faccio a conoscere la parola crepuscolare oh se per questo conosco un sacco di parole per esempio vespertino che è un altro modo per dire crepuscolare quanto al timore che la luce del sole mi brucia gli occhi non c'è da preoccuparsi a differenza di molte specie di topi da giardino io godo di una vista perfetta sia di notte che di giorno e ho anche un olfatto sviluppatissimo dieci volte più sensibile di quello di un cane a dire il vero io sono incredibilmente diverso sotto tantissimi aspetti per esempio se mi vedeste vi mettereste senz'altro a strillare non solo perché sono un topo ma perché sono un topo blu di quello stesso colore blu cielo degli ovetti di zucchero che i lunghi camici sgranocchiavano la scorsa pasqua non per vantarmi ma sono anche molto intelligente con un vocabolario decisamente forbito oserei dire civile per un animale che pesa solo 28 grammi ed è alto 14 centimetri tutti i miei fratelli e sorelle sono speciali anche loro ma in modo diverso e non siamo tutti blu Winnie per esempio è chartreuse una sorta di verde pallido Abe lui è rosso o come dice lui cremisi elettrico sono pronto a scommettere però che nessuno dei miei 96 fratelli è così immensamente spaventato come lo sono io in questo momento perché in buona sostanza io sono il vigliacco della famiglia è vero di tutti i 97 io sono il più fifone ah visto mi sono appena spaventato da solo perché mi è sembrato di sentire tifone oh no l'ho detto improvvisamente mi sento le zampe molli mentre corro a tutta velocità lungo il cavo elettrico scivolo e capitombolo a testa in giù non c'è la rete ma per fortuna cado su un mucchietto di soffici foglie so cosa state pensando non vado orgoglioso della mia vigliaccheria e della mia timidezza ma purtroppo è un fatto un triste fatto una volta Benji disse che il mio pelo doveva essere giallo anziché blu mi fingo morto per un paio di minuti nel caso uno dei lunghi camici mi abbia seguito fin qui o peggio ancora ci fosse un uccello in cerca di preda a girare in tondo sopra di me quando sento solo il fruscio del vento tra l'erba alta e il martellare del mio stesso cuore alzo lentamente la testa e scruto l'orizzonte sperando contro ogni logica cerco un muso familiare un paio di baffi amici Abe piagnucolo Winnie Benji ovviamente nessuno risponde quello che ho sentito dire dagli umani è vero li hanno presi tutti dal primo all'ultimo eccetto me il topo più codardo dell'intera famiglia cuore di topo capitolo 4 quando hai già perso tutto non hai più niente da perdere mi alzo sulle zampe posteriori e mi do un'occhiata attorno sono solo al mondo e non ho la più pallida idea della parte del mondo in cui mi trovo ritengo di avere due scelte a posso girare sui tacchi tornare di corsa nel luogo orribile e consegnarmi ai lunghi camici così facendo sarei di nuovo con la mia famiglia a succhiare acqua zuccherata da un tubicino e sgranocchiare crocchette prima dell'imbrunire bello comodo e al calduccio nel mio letto di trucioli di cedro B posso continuare a correre trovare un posto in cui nascondermi aspettare che la mia famiglia evada e mi trovi scelgo la B poco prima di scappare fuori dalla porta sul retro i miei trucioli di cedro si erano un po' infradiciati non ditelo a nessuno ma l'idea di scappare dal luogo orribile era un pensiero così terrificante che avevo bagnato il letto ho letto da qualche parte sì so leggere come pensate che abbia imparato tutte quelle parole difficili che l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa ok questo l'ha scritto senz'altro un umano noi topi siamo così piccoli che abbiamo un sacco di cose di cui avere paura uccelli gatti e addetti agli spazzoloni maldestri che indossano pesanti stivali da lavoro non sarò coraggioso ma sono senz'altro curioso per esempio mi sto chiedendo cosa ci sarà dietro quella fila di alberi sul lato opposto del campo in cui sono appena atterrato perciò sgattaio lo tra l'erba alta mi fa solletico e attraverso di corsa un fitto boschetto di sempreverdi ed ecco che di punto in bianco mi ritrovo nei soborchi credo non posso esserne certo perché non ho mai visto prima soborghilandia ne ho solo letto è questa l'unica cosa buona che posso dire sul luogo orribile c'erano i libri montagne e montagne di libri un'intera biblioteca piena e facevano degli esami montagne e montagne di esami ma a volte quando i lunghi camici non guardavano io leggevo per divertimento mi piacevano i racconti d'avventura in realtà ho sempre voluto partire per una grande avventura ora so che si tratta solo di un altro modo per dire che ti sei perso e sei rimasto da solo resta comunque quella fastidiosa curiosità il mondo in cui sono appena entrato è talmente diverso da qualsiasi cosa abbia mai conosciuto giro qua e là e mi guardo attorno moltissimi alberi macchine parcheggiate e tricicli abbandonati mi mantengo molto vicino ai marciapiedi e ai canali di scolo nel caso debba ricorrere a un'altra uscita di emergenza via Tombino dietro ad alcune grandi finestre delle gigantesche case degli umani vedo dei gatti so che loro sanno che io sono qui i gatti sono intelligenti specialmente quando sono affamati a proposito dopo tutto quel correre saltare e tremare di paura l'acqua zuccherata che ho trangugiato a colazione le crocchette non riuscivo nemmeno a guardarle da quanto ero nervoso è completamente evaporata inizio a curiosare in cerca di cibo e non sono certo troppo schizzinoso sapevate che la parola mouse topo deriva presumibilmente dal sanscrito mus che significa ladro ora non è che io di solito mi consideri un ladro non ho mai preso nulla che non mi sia stato liberamente offerto non ne ho mai avuto bisogno ma mentre zampetto perso borgilandia straniero in una terra estranea mi rendo conto che potrei non avere molta scelta non arriverà nessun lungo camice a versarmi la cucchiaiata giornaliera di crocchette fortunatamente parecchie di queste case di umani hanno dei grossi cassonetti a ruote parcheggiati sull'erba sopra il marciapiede e sono tutti molto profumati annuso l'aria alla base di una di queste imponenti torri di plastica non posso credere alla mia fortuna è un silo pieno zeppo di cibo appena usato utilizzando gli artigli come uncini da rembaggio mi arrampico sulla rapida parete del monte colazione e mi vado ad appollaiare sulla sua cima uno dei sacchetti di plastica bianchi stipati nel gigantesco cassonetto è aperto vedo dell'uva una fetta di pane chiazzata di macchie blu verdi e una poltiglia grumosa che potrebbe essere purè di patate l'ho letto su un libro di cucina è un autentico buffet con il suo brontolio il mio stomaco mi ricorda che sto morendo di fame e mi esorta a rubare qualcosa di commestibile ebbene sì per la prima volta nella mia breve vita agisco come un vero topo o un mousse sono un ladro di cibo e mi piace da matti questo cibo appena usato è buonissimo mi pappo tre acini grinzosi faccio fuori tutta la polptiglia che si rivela come farina d'avena con sciroppo d'acero divoro un torsolo di mela è tutto davvero succulento scopro nuovi gusti espando i miei orizzonti culinari come ho detto sono stato allevato a crochette e nient'altro roba secca e disgustosa che sa di cartone come faccio a sapere di cosa sa il cartone mi è capitato di azzannare per sbaglio l'angolo di una scatola di cereali e ho riconosciuto il sapore immediatamente crochette sono proprio felice di non avere fatto dietro front ed essere tornato nel luogo orribile questo nuovo mondo è di gran lunga più appetitoso mi sdraio sul mio soffice letto di pane per assaporare un altro acino grinzoso quando sento qualcosa che sposta la mia torre di cibo qualcosa di grosso mi sporco oltre il bordo è un ratto cuore di topo capitolo 5 tutti riceviamo dei doni come li usiamo dipende da noi la mia splendida fortezza di cibo è attaccata da ratti giganteschi dai denti sporgenti viscidi scorbutici ratti è vero ratti e topi sono parenti siamo entrambi membri della famiglia dei roditori ma i ratti sono i cugini avidi violenti e spregevoli non è per denigrare la mia famiglia allargata ma andiamo diciamoci la verità i ratti sono orribili sento un duplice colpo giù in basso metto insieme il coraggio sufficiente a dare un'altra occhiata oltre il bordo del mio barile di cibo quello che vedo non mi piace una banda di enormi ratti si sta riversando fuori dal canale di scolo più vicino è ovvio che i ratti hanno sentito l'odore del silo del cibo usato da poco esattamente come ho fatto io adesso vogliono ribaltare il mio cassonetto del cibo e papparsi tutta la roba che si rovescerà fuori per poi usare me come dessert per fortuna il barile in cui ho deciso di tuffarmi è dotato di ruote quando i ratti lo spingono alla base non si rovescia scorre semplicemente di lato sull'erba frustrati i ratti brontolano e vanno a sbattere ancora più forte contro la base del cassonetto utilizzando le loro teste come arieti il che va benissimo non è che usino la testa per molti altri scopi vedete i miei cugini ratti saranno anche grossi e brutti ma sono anche degli stupidi d'accordo loro non hanno avuto le opportunità educative che ho avuto io nessuno di loro ha dimestichezza con le teorie sull'equilibrio o sullo spostamento del peso d'altro canto sono abbastanza furbi da avermi intrappolato non ho certo intenzione di saltare giù per diventare una merendina per ratti quei roditori impazziti continuano a sbattere e a colpire e a spingere di lato il cassonetto il capo della banda alza lo sguardo e mi vede si arriccia i baffi e ridacchia non è un suono amichevole è un po' come se schioccasse le labbra pregustando la mousse di topo in arrivo quindi decido di mettere in mostra un altro dei miei singolari e insoliti talenti essere blu non è la mia sola particolarità traggo un profondo respiro e mi alzo in tutta la mia statura che come vi ho ricordato è inferiore ai 15 centimetri in confronto a me i ratti sono dei giganti grossi come stivali da lavoro non importa come ho detto io sono in grado di fare qualcosa di incredibile crocchette grido proprio così sono in grado di emettere suoni che vanno oltre i classici squittì e pigolì da topo ho una voce posso pronunciare alcune parole degli umani specialmente quelle che ho sentito ripetere molte volte crocchette grido gli occhietti luccicanti del capo dei ratti mi guardano con una nuova espressione riconosco quello sguardo è paura crocchette questa volta agito le zampe come fosse una specie di topo fantasma completamente fuori di sé il capo ratto strilla e con uno schiocco della grossa coda torna di corsa dentro alla sua fogna il resto dei suoi compari si affretta a corrergli appresso in un lampo sono spariti e il cuore sembra volermi esplodere nel petto era la prima volta in vita mia in cui ho dovuto salvarmi la vita avrò pure spaventato i ratti ma sono ancora piuttosto spaventato anch'io diciamocela tutta sono impietrito capita quando viene aggredito dai ratti voglio la mia famiglia a proposito lo sapevate che mia madre come quasi tutte le madri di topi ci ha parterito tutti e 97 in meno di un anno vi chiederete come mai tanti figli beh i lunghi camici dicono che un topo comune vive un anno forse due immagino che ci sia bisogno di un sacco di neonati altrimenti la nostra intera specie potrebbe fare la fine dei dinosauri e sparire dalla faccia della terra ma ho anche sentito dire da uno dei lunghi camici che tutti i topi del luogo orribile sono diversi dal topo comune sotto qualsiasi aspetto immaginabile uno ha perfino detto che la mia vita potrebbe durare quanto quella di un essere umano e quindi quanto gli umani che non devono preoccuparsi degli uccelli o dei gatti o divenire calpestati o mangiati dai propri stupidi cugini ratti possono vivere molto molto più a lungo dei topi non sarebbe fantastico pensate a quante feste di compleanno potrei avere cuore di topo capitolo 6 state attenti quella luce alla fine del tunnel potrebbe essere un treno che sta venendo verso di voi quando sono assolutamente concretamente indubitabilmente certo che i rati se ne sono andati arraffo un pezzo di pane verde per il viaggio e salto fuori dal mio cassonetto ristorante devo continuare a muovermi mi affretto a rimettermi in cammino e stando molto vicino al marciapiede di cemento seguo la strada fino a dove mi porta non volevo che mi pertasse a questo perché questo è peggio di tutti quei roditori squilibrati che andavano a sbattere sul mio cassonetto questo è un gatto si muove furtivo lento impassibile cerca l'angolo di attacco migliore oscilla le spalle con disinvoltura girandomi attorno come farebbe un leone che detto per inciso è solo un enorme gattone senza la lettiera tutti i gatti sono eccellenti cacciatori è il loro super talento paralizzato dalla paura ho il tempo di studiare questo specifico esemplare è uno sphinx nero sapevate che gli sphinx non hanno pelo sono anche molto muscolosi con un collo possente e cuscinetti sotto le zampe così spessi da far sembrare che camminino sospesi da terra si so molte cose sui gatti so anche di trovarmi in pericolo di vita perciò provo di nuovo il mio trucco forse oggi mi salverà la vita due volte crocchette il gatto drizza la sua testa a cuneo i suoi occhi maligni di un giallo acido appaiono confusi colgo l'attimo e schizzo lungo il vialetto sfortunatamente quel mostro grinzoso e senza peli mi insegue mi tuffo verso il cespuglio sotto il portico il gatto ci si tuffa le mie spalle scarto verso destra diretto all'angolo dove iniziano i gradini del portico il gatto copia ogni mia mossa bloccandomi le vie di fuga sono intrappolato con la schiena appoggiata al muro ma il gatto non mi balza addosso vuole giocare a un gioco chiamato del gatto col topo che a mio modesto parere andrebbe ribattezzato come gioco peggiore del mondo è come il ping pong solo che io sono la pallina e le micidiali zampe del gatto sono le racchette come se mi avesse letto nel pensiero il gatto mi colpisce con l'enorme zampa e io volo contro il muro ai quando rimbalzo indietro mi colpisce di nuovo con l'altra maxi zampa si diverte come un matto lo sento perfino ridacchiare un odioso e sibilante ah 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 poi mi risbatte un'altra volta contro il muro vedo letteralmente le stelle il gatto striscia più vicino così vicino che riesco a leggergli la targhetta davvero adorabile si chiama lucifero cuore di topo capitolo 7 devi avere qualcosa per cui alzarti e lottare altrimenti passerai tutta la vita con le chiappe per terra dunque eccomi qua stretto all'angolo e con il diabolico gatto pronto al prossimo giro di picchia al topo decido che ne ho abbastanza sono arrivato al limite signore e signori sono stufo di essere aggredito per quello che sono non diventerò il peluche di questo gatto sono un topo che come ricorderete deriva dalla parola sanscrita mus cioè ladro perciò è venuto il momento di rubare a questo demonio dalla pelle a prugna secca il suo perverso divertimento la targhetta di lucifero tintinna mentre altra alla zampa destra per colpirmi di nuovo io mi raggomitolo completamente trasformandomi in una palla durissima lucifero si inarca e mi colpisce un'autentica bastonata picchio violentemente contro il muro e rimbalzo come fossi una super palla di gomma compressa volo dritto addosso al gatto lo colpisco in pieno sulla pancia il suo miau diventa un miau cado a terra mi rannicchio e rotolo e mentre lucifero si tiene la pancia con le zampe anteriori affondo i miei piccoli ma affilatissimi denti in una delle sue zampe posteriori miro ha un fragile tendine nella parte posteriore della zampa un tendine facile da vedere perché il nostro pelatino è privo di pelo lucifero strilla come se un ippopotamo gli avesse appena pestato la coda io prendo il volo non letteralmente non è che posso addirittura volare ma come ho detto prima sono veloce se vi capita l'occasione provate a inseguire del formaggio su una ruota d'allenamento ti fa correre in fretta soprattutto quando sei furioso lucifero non ha più tanta voglia di inseguirmi lancio un'occhiata dietro di me e vedo che si sta leccando le ferite letteralmente uso i baffi e la coda per tracciare un percorso nel sottobosco dell'aiuola corro lungo il fianco della casa di mattoni e me lo svigno nel giardino sul retro lucifero mi sta ancora inseguendo sono troppo impegnato a correre per guardare indietro più avanti vedo una staccionata di assi di legno c'è un piccolo buco nel punto in cui c'era un nodo di pino un buco in cui lucifero non potrebbe passare in un milione di anni provo a svignarmela da lì scatto sull'erba spicco un balzo stendo le zampe e veleggio verso il buco sto proprio volando beh insomma quasi sfreccio dal buco e atterro sull'altro lato della staccionata in un letto di terriccio e corteccia di pino sotto una fila di alberi da frutto per terra c'è una mela troppo matura ci giro intorno mangiucchiandola e intanto penso alla mia prossima mossa con gatti crudeli e uccelli affamati in cerca di prede per un topo blu non è per niente sicuro andarsene in giro all'aria aperta gli alberi di melo si trovano dietro a una casa che somiglia moltissimo a quella dove ho incontrato lucifero a dire il vero qui a sobborgilandia parecchie case si somigliano tra loro mi ripulisco le zampe dal succo di mela mi sprimaccio il pelo e mi dirigo verso la casa e spero che in questa casa non abbia lungato cuore di topo capitolo 8 qualunque sia la temperatura una casa è sempre più fredda se non hai una famiglia con cui dividerla forse avrei dovuto continuare a correre forse avrei dovuto cercare un altro tombino in cui nascondermi forse avrei dovuto tornare strisciando nel luogo orribile per stare di nuovo con la mia famiglia e invece mi avvicino alla casa perché non so resistere all'aroma stuzzicante di cannella mele burro e zucchero grezzo che si spande dalla sua porta zanzariera riconosco quel profumo è torta di mele appena sfornata un giorno non molte aurore fa una dei lunghi camici ha portato una torta di mele nel luogo orribile mi è passata proprio davanti con una scatola di cartone tutta impacchettata con un nastro bianco e rosso io mi stavo allenando sulla ruota ma il profumo mi ha bloccato di colpo a mio modesto parere la torta di mele ha il profumo del paradiso esamino la porta della casa c'è un'anta oscillante alla base con la scritta sportello per animali stampata sulla striscia di plastica che copre il telaio questo significa che lo sportello è riservato agli animali amici che lo usano per entrare e uscire io mi sono sempre considerato un tipo amichevole perciò supero con un balzo i pochi scalini e infilo la testa nello sportello mi si torcono i baffi nel sentire il forte aroma di quella celestiale torta di mele attraverso lo sportello per animali e sono in casa ed è in casa anche l'autrice della torta di mele è un donnone con un grembiule impolverato di farina ha le mani sui fianchi e mi sta guardando con aria torva ha anche un mattarello esci dalla mia cucina sudicio roditore grida mi scaraventa una mosca da schiacciare un topo da intrappolare con la colla topicida proprio così io non solo capisco le parole ma comprendo anche il loro significato e a volte vorrei non essere così dotato e talentuoso detto tra noi non è che mi piaccia molto sapere che al mondo esistono persone che mi odiano senza nemmeno conoscermi perciò continuo a correre ma ben presto rallento ok diciamo che adesso cammino non è che tutto quel correre dietro al formaggio sulla ruota ti possa dare la tenuta necessaria a correre per otto ore di fila le strade sono buie eccetto le pozze di luce sotto un paio di lampioni solitari passa altro tempo le stelle brillano nel cielo come ghiaccioli sbriciolati mi accorgo che sto tremando per una volta non si tratta di paura no sto battendo i denti dal freddo di solito i topi si tengono caldi stringendosi assieme nella tana e condividendo il calore corporeo ma stanotte la cosa non è fattibile sono solo e sono anche esausto decido di rischiare e mi avvicino di soppiatto alla casa meno minacciosa che riesco a trovare la base è fatta di blocchi di calcestruzzo che presentano degli spazi vuoti una sorta di comode tane di cemento in uno dei blocchi noto un'apertura piena di foglie secche e aghi di pino trovo del muschio verde e vellutato che cresce su una roccia lo gratto via e lo arrotolo dentro a una foglia grassa che stacco da un cespuglio mi farà da cuscino quando il mio rifugio per la notte è sufficientemente comodo ci scivolo dentro e mi raggomitolo mi sento decisamente meglio e anche decisamente solo è la prima volta che passo una notte lontano dalla mia famiglia per quanto orribile fosse il luogo orribile almeno eravamo tutti insieme mi mancano i miei fratelli e sorelle Abe Benji Clement Telila Eli Felicity Felix nella mia testa recito tutti i loro nomi quando arrivo a Zuzu ricomincio da capo al terzo passaggio mi addormento terrorizzato dai sogni che potrei fare il giorno più pazzo della mia vita si è trasformato nella notte più triste della mia vita e non mi aspetto che domani sia molto meglio cuore di topo capitolo 9 la fame spinge il lupo a uscire dal bosco e il topo a entrare nel bidone della spazzatura la maggior parte dei topi dorme circa 12 ore al giorno quando mi sveglio mi sento come se avessi dormito un giorno intero forse di più ricordo di essermi svegliato una volta aver sprimacciato il mio cuscino di muschio ed essermi coperto gli occhi con della paglia quando un polveroso raggio di sole si è infilato nella mia tana cercando di scaldarmi la faccia l'ho ignorato e sono tornato a dormire ma la seconda volta che il sole ha fatto irruzione nel mio minuscolo vano il mio stomaco non mi ha permesso di coprirmi gli occhi e girarmi dall'altra parte sta protestando rabbiosamente perché io lo riempia alzati Isaia mi dico stamattina non arriverà nessuno a darti la tua razione di crocchette se vuoi mangiare devi uscire là fuori e cercarti del cibo striscio fuori dalla mia tana nel muro il mio piano è tornare sui marciapiedi di soborghilandia e trovare un'altra torre di cibo con le ruote attraverso di corsa al prato davanti alla casa dirigendomi verso un altro cassonetto di cibo usato convenientemente parcheggiato vicino al cordolo all'improvviso un frastuono tremendo l'aria esplode un mostro di grigna i denti tutta la terra trema un grosso e rombante camion bianco sta risalendo la strada con un umano appeso sul retro mi nascondo dietro a una decorazione da giardino in ceramica sbirciando da dietro l'asinello di gesso che traina un carretto pieno di vasi di petunie vedo un umano corpulento con una scintillante pettorina arancione che raccoglie la mia colazione e la scarica nelle fauci spalancate dietro al gigantesco camion bianco è orribile sono stato rapinato mi stanno rubando il cibo che stavo per rubare io e non posso farci nulla quando hanno finito di alimentare il retro del camion con la mia colazione gli umani rovesciano il cassonetto di lato sulla striscia d'erba tra il marciapiede e il cordolo poi proseguono rombando lungo la strada per saccheggiare il prossimo cassonetto guardo la strada dalla parte in cui sono già passati tutti i cassonetti sono sdraiati sul fianco so che sono vuoti la mia deliziosa colazione è stata ingurgitata dal gigantesco camion bianco che a quanto pare è ancora più affamato di me gli umani lo stanno nutriendo con ogni singolo cassonetto dell'isolato è questo che significa essere un topo vero e proprio la mia vita fuori dal luogo orribile è destinata a non essere altro che un'interminabile ricerca di cibo e rifugio quando gli umani e il loro camion affamato sono a due isolati di distanza mi infilo nel cassonetto sento un odore disgustoso vedo una pozza formata da una spessa brodaglia umida rimasta intrappolata in una delle rientranze ondulate vicino al fondo del cassonetto quella sbobba puzza di vecchio di rancido di marcio ma è cibo mi stringo il naso e la lecco tutta ebbene sì essere un topo e anche un topo di un bel pelo blu non è così bello e nemmeno il cibo cuore di topo capitolo 10 speranza significa credere nel lavoro quando sarebbe più facile arrendersi sto ingoiando un pezzo di carne misteriosa o forse un pezzo di patata poco cotta è coperta di tanto di quel sugo marcio e unto che è difficile stabilirlo il mio stomaco vacilla l'odore aspro sta per farmi rimettere mi sento come un gatto che stia vomitando un bolo di pelo mentre sputo fuori quel grumo farinoso coraggio Isaia mi dico i poveracci non hanno scelta e invece dice sì dice una vocina dentro di me che non intende mandar giù un altro boccone di quella schifezza che ne dici di cercare del cibo alla buona vecchia maniera tipo raccogliere noci e bacche e dove le andiamo a trovare le noci e le bacche mi chiedo potremmo provare a parlare con gli scogliattoli suggerisce la vocina somigliano abbastanza dei topi e sembrano più amichevoli dei ratti all'improvviso sento qualcosa che interrompe il mio dibattito interiore il mio cassonetto del cibo sta cogliendo un suono lontano una canzone e lo amplifica finché non mi circonda all'improvviso questo bidone della spazzatura è diventato una sala concerti la voce della cantante è splendida assolutamente incredibile un soprano angelico che canta una dolce melodia molto simile alla ninna nanna che mia madre canticchiava sottovoce quando ero appena nato è la canzone di un topo oh sì è vero i topi sanno cantare siamo tra i pochissimi mammiferi intonati balene pipistrelli umani e topi tanto è vero che per cantarci serenate a vicenda usiamo la stessa porzione di cervello che usano gli umani ai topi viene anche la pelle d'oca come quella che ho adesso mentre ascolto questa dolce melodia con tutto quello che abbiamo in comune uno pensa che la gente dovrebbe trattarci meglio ma adesso non voglio soffermarmi su questo argomento non ci voglio nemmeno pensare voglio solo restarmene qui un momento ad ascoltare questa splendida canzone d'amore perché è di questo che si tratta di solito sono i topolini a intonare ballate d'amore per le topoline ma questa canzone è cantata da una topolina riconosco la voce ovviamente non la sta cantando per me come potrebbe non ci conosciamo nemmeno non ancora lascio perdere il cibo devo andare a cercare questo usignolo di metà mattina balzo fuori dal bidone della spazzatura con rinnovata determinazione ci sono topi a sobborgilandia topi canterini a quanto pare ora non mi sento più così solo al mondo devo solo trovare questa melodiosa topolina deve essere molto carina per cantare in un modo così splendido mi rotolo su del trifoglio profumato per togliermi di dosso il sugo della pattumiera mordicchio un po' d'erba perché contiene clorofilla e questo a renderla verde e la clorofilla è ottima per combattere l'alito cattivo voglio avere un aspetto e un profumo impeccabili quando incontrerò questa magnifica creatrice di melodie prendo anche un bellissimo dente di leone giallo portarle dei fiori mi sembra il minimo sono un suo fan sfegatato apro bene le orecchie ascolto la sua voce seguo la canzone perché dovunque conduca è là che voglio andare cuore di topo capitolo 11 un sorriso per un topo è come il sole per i fiori ehi là non solo la topolina ha una bellissima voce ha anche un meraviglioso sorriso e deliziose ciglia arricciate più lunghe di qualsiasi paio di baffi ovviamente non mi ha ancora visto il che probabilmente è un bene la splendida cantante è provvista di un mantello marrone scuro color cioccolata calda il mio come ricorderete è blu un blu luminoso fiammante elettrico so bene che con ogni probabilità quella bella pupa dal mantello marrone smetterà di cantare nel momento stesso in cui coglierà la mia sconvolgente bellezza dopo tutto è davvero sconvolgente quindi per adesso me ne starò qui tra i cespugli annuserò il mio dente di leone e ascolterò lei cantare per se stessa e le api che ronzano attorno ai boccioli quando i topi intonano le loro canzoni alle api piace sempre accompagnarli con il loro ronzare ragazzi che voce più che dolce la definirei mielata d'accordo mielata è un altro modo per dire dolce ma credo che mielata suoni più allettante più melodioso di dolce perciò oh oh ha smesso di cantare si guarda attorno sente che qualcuno la sta osservando tutti i topi sono abilissimi nell'accorgersi di un intruso perché potrebbe sempre trattarsi di un gatto decido di rischiare salto fuori dal mio nascondiglio e mi produco in un profondo inchino non avere paura bellissima cantante esordisco lei grida comunque ma non scappa e lo prendo come un incoraggiamento sono semplicemente io Isaia tu balbetta lei sei blu blu certo ma in realtà il tuo canto mi fa sentire un intero arcobaleno lei non sembra apprezzare il gioco di parole ai topi normali capita di rado in compenso punta una zampa su di me il tuo pelo è strano lo so lo è senz'altro anche se io preferisco definirlo speciale è strano forse tuttavia conosco un topo di nome Abe che ha il pelo cremisi d'altra parte mia sorella Winnie è color chartreuse cosa sono cremisi e chartreuse cremisi è rosso chartreuse è un colore a metà strada tra il giallo e il verde colore ops dimenticavo i topi normali non io sono daltonici vediamo solo bianco nero e ebbene sì blu devo sembrarle come un lembo di cielo a forma di topo immagino tu non abbia mai visto un topo blu vivendo qui a soborgilandia ora il suo mantello marrone si increspa vedo che le si rizzano i peli del collo cosa c'è che non va nel posto dove vivo niente è solo che ho girato sai sono stata nella casa qui accanto e anche in quella laggiù ne sono certo e hai anche la voce più dolce più mielata che abbia mai sentito che significa mielata dolce come il miele ora sembra ancora più turbata non avresti dovuto ascoltarmi cantare fino a questo momento posso dire che non sembra particolarmente affascinata da me sorrido e agito i baffi come ho visto fare a mio fratello Rodolfo quando flirta con le topoline mademoiselle come avrei potuto resistere facile potevi allontanarti ed è quello che fa lei si allontana da me